sportivi si nasce e si è sport italia il primo canale televisivo italiano gratuito dedicato 24 ore su 24 allo sport notizie attualità grandi eventi si è già nel tuo televisore cerca la frequenza chiamando il numero verde 800 855 850 o sul sito internet www.sportitalia.com con sport italia sportivi si diventa accendilo subito è gratis grazie